Ciao a tutti, oggi voglio proporvi un nuovo tag, mi è sembrato particolarmente carino perché ha diverse domande che non riguardano soltanto i selfie Qual è la parte migliore del tuo corpo? Penso che siano gli occhi per il semplice fatto che ricevo diversi complimenti sui miei occhi e quindi saranno quelli migliori Se potessi visitare qualsiasi parte del mondo dove andresti e perché? Ci sono in realtà diversi posti dove mi piacerebbe andare però penso che risponderò Australia semplicemente perché è il posto in cui voglio andare da sempre Praticamente da quando sono nata, anche se mi piacerebbe tantissimo andare in Giappone, non lo so, l'Australia ha sempre avuto qualcosa di magico per me Cosa ti fa sentire subito meglio quando stai male? Penso che essere coccolata o comunque ricevere le attenzioni e quindi sentirmi comunque amata mi fa sentire decisamente meglio quando sto male o quando sono giù di morale O semplicemente un gatto che arriva e si piazza sopra la mia pancia, va bene, lo stesso Quali consigli daresti ai giovani americani e perché? Può sembrare banale e abbastanza scontato ma secondo me l'alimentazione è davvero molto importante e penso che ci siano diverse persone che sottovalutano questo aspetto E quindi il mio consiglio sarebbe quello di stare attenti appunto a quello che si mangia Quale animale pensi di essere stato nella tua vita precedente? Direi che non c'è neanche bisogno di rispondere a questa domanda e penso totalmente di essere stata una gatta Se potessi tornare indietro nel tempo, che cosa cambieresti? Penso che proverei un pochettino a cambiare il mio carattere Cercherei di essere meno chiusa in me stessa, meno timida E cercherei di darmi tipo una svegliata, di essere un pochettino più reattiva Che cosa fai per divertirti nel weekend? In genere esco col moroso o con gli amici Mi piace andare o al centro commerciale o al cinema o comunque semplicemente fuori a mangiare Quello che preferisco ovviamente è il sushi Ma non sempre possiamo andare lì Quindi in genere andiamo in posti tipo lo Wild West o comunque dei pub Cose così Qual è la tua fissa al lavoro? Direi mettere in ordine ed è una cosa che qualcuno può assolutamente confermare Mi piace avere le cose in ordine Tipo, non dico una mania, però ad esempio In negozio ho risistemato gli zaini in base al colore Quindi li ho ordinati in base alla gradazione di colore Le scarpe mi piace sistemarle in base alla marca Sistemo poi i cassetti mettendo le cose diciamo in base a quelle che uso di più, di meno Insomma un pochettino così e quindi... Sì Non potresti vivere senza i gatti e la cioccolata Non toglietemi mai i gatti o la cioccolata No! Se potessi avere un superpotere quale sarebbe? Penso il teletrasporto Perché mi piacerebbe davvero tantissimo visitare diversi posti Soprattutto lontani Senza dover spendere soldi Evitando le diverse ore di viaggio Deve essere una cosa davvero pazzesca Anche se in realtà sono un po' combattuta Perché mi piacerebbe anche tantissimo poter parlare con gli animali In particolare con i miei gatti Perché mi piacerebbe sapere che cosa pensano di me Che cosa hanno da dire Quali sono i loro progetti Insomma Non lo so, mi piacerebbe Queste erano tutte le domande del tag Spero che vi sia piaciuto Io mi sono particolarmente divertita a rispondere a queste domande E spero di avervi tenuto compagnia E ci vediamo alla prossima Ciao! Ciao!